E' sfuggito alla cattura per 30 anni, ma non al tumore che non gli ha lasciato scampo. Matteo Messina Denaro è deceduto poco prima delle due della notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nel reparto riservato ai detenuti dove era ricoverato da agosto. Ultimo dei corleonesi, aveva compiuto 61 anni il 26 aprile scorso. Il padrino è stato condannato per le stragi del 1992 e del 1993, ma pure per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe di Matteo, uno dei delitti più efferati commessi da Cosa Nostra. Con sé si porta dietro tanti segreti, ha dichiarato Nicola di Matteo, fratello di Giuseppe. Il piccolo fu strangolato e poi sciolto nell'acido, su ordine tra gli altri di Giovanni Brusca e Matteo Messina Denaro. La cattura del boss è avvenuta proprio per il fatto che il mafioso fosse costretto a curarsi per il tumore al colon che lo aveva colpito, e scandagliando le banche dati del Sistema Sanitario Nazionale, infatti, che i carabinieri del ROS erano riusciti ad individuare l'alter egor di Matteo Messina Denaro, ovvero Andrea Bonafede. E ricostruendo il suo percorso tra gli ospedali, la mattina del 16 gennaio, erano riusciti a prenderlo alla clinica La Maddalena, dove stava andando per sottoporsi alla chemio. Si parla di tesoro ancora nascosto. Il patrimonio a lui riconducibile, sequestrato negli anni dallo Stato, è stimato in oltre 4 miliardi. Il corpo del mafioso si trova ora in uno dei sotterranei dell'obitorio dell'ospedale Aquilano, che dista non più di 100 metri dalla cameracella nella quale era ricoverato dallo scorso 8 agosto. I locali sono inaccessibili anche alla figlia Lorenza, riconosciuta di recente, e alla nipote, Lorenza Guttadauro, nonché suo avvocato di fiducia. Il corpo del boss dovrà essere sottoposto ad autopsia prima di lasciare il capoluogo della regione Abruzzo per essere tumulato a Castelvetrano. La procura dell'Aquila, di concerto con quella di Palermo, ha già disposto l'esame autoptico che si svolgerà in ospedale. Della morte del padrino, oggi ne parlano tutti i principali siti, dagli statunitensi New York Times e CNN al britannico The Guardian, dalla francese Le Monde allo spagnolo e il paese. Ne parla anche l'araba Al Jazeera. La preghiera non si nega a nessuno, ma non riesco a dire che mi dispiace, così il ministro Matteo Salvini sui suoi canali social. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel ribadire l'impegno nella lotta contro le mafie, ha pubblicato una foto dei giudici Falcone e Borsellino. E parla di un capitolo doloroso della storia recente della nazione, che non si può cancellare, ma di cui oggi si può narrare la fine grazie al lavoro di donne e uomini che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la criminalità mafiosa.